Cari amici di retroscena, benvenuti. E poi sgrideremo qualche studente, magari dell'università, che ha perso questa opportunità, quest'occasione, perché è peggio da loro. Questo è l'ultimo appuntamento, come sapete, del nostro programma di retroscena, condotto dal professor Paolo Bertinetti. E abbiamo la particolare fortuna di avere anche Leo Buscato, il regista dello spettacolo, che ha debuttato con grande successo martedì al Teatro Carignano, Come mi piace, As you like it, ovvero Rosavilla. Questo è uno spettacolo, tra l'altro, che non si fa così di frequente, ma a me piace ricordare, per ragioni di identità di teatro stabile Torino, Almeno l'edizione di metà degli anni Sessanta che fece Franco Enriquez con Valeria Moriconi E che andò anche in una tournée in Russia ai tempi della direzione di Gianfranco Di Bosio. E' stato uno spettacolo memorabile, quello là della Compagnia dei Quattro, che poi è stato prodotto anche dallo stabile di Torino, E' andato ai Giardini Reali, insomma un mitico spettacolo. Ma oggi rinverdiamo quei fasti con una nuova edizione che, a mio parere, ci dimostra una particolare freschezza e modernità, E ne parleremo adesso con tutti i protagonisti. Quindi un benvenuto e un grazie a tutta la compagnia, non ci possiamo stare tutti seduti qua dietro al tavolo, Per cui prima parleranno chi conduce l'incontro e il regista e gli attori principali, E poi anche a tuoi loro, gli altri attori che hanno piacere di intervenire. E quindi do la parola al professor Bertimetti, che ci introduce e poi conduce questa conversazione. Buonasera, mi sono portato questo libro, scritto da uno che era forse il maggiore esperto di studi sciaspiriani in Inghilterra Negli anni 50, prima degli anni 60, infatti il libro è del 62. E prima di diventare un vate della critica sciaspiriana, di mestiere faceva l'ispettore scolastico, Girava nelle scuole e nelle scuole inglesi medie, in media superiori, si fa teatro. E in ogni caso, come potete immaginare, a meno un testo di Shakespeare faceva il programma scolastico. E quando si arrivava a Eslarket, lui parlava con gli studenti e diceva, ma dunque, ai maschietti piaceva l'inizio perché c'era la lotta. Alle ragazze piaceva la seconda parte quando ci sono le dichiarazioni d'amore. Negli uni e negli altri aveva l'aria di capire assolutamente di cosa parlava questa commedia. Ma il punto è che non aveva l'aria di capire neanche gli insegnanti che la proponevano. E il dubbio, aggiunge lui, mi vede che anche chi lo metteva in scena non capisse bene di cosa si trattava, si baccamenasse un po', per cui venivano fuori delle cose noiose, delle messe in scena noiose. E poi dice, ma poco prima che questo testo andasse in stampa, l'anno prima, il 1861, ho visto un esilai che faceva la parte di Rosalinda e devo dire che quello invece era uno spettacolo splendido, non solo perché era bravissimo, ma perché lo spettacolo appunto non era noioso. La versione italiana, una delle ragioni per cui credo che la versione italiana prevede delle difficoltà ed è per questo che magari non spesso viene messa in scena, la versione italiana ha un problema in più, perché ovviamente i giochi di parole, le scherze e le battute che nell'originale inglese hanno un loro senso, un loro logico, si susseguono con... in italiano quando tu ti devi mettere lì a tradurre, cercare di rendere, cosa fai? Metti... lo stampi, nota a piedi pagina, ma al teatro come fai? Per questa ragione, anche perché io sono convinto che, dato che il testo teatrale non è da leggere, vive sul pacco cerco. Quindi, l'interpretazione più autorizzata che c'è non è quella del critico letterario, ma è quella del regista e degli attori che lo mettono in scena. Poi possono sbagliare, possono fare delle parrocate in mano, possono fare delle cose bellissime, dipende, però sono autorizzati a farlo. Perché? Perché non è una parola da essere letta, che è una parola da essere letta. Io non so se il regista, che è anche autore della traduzione, dell'adattamento del testo, avesse sentore del fatto che, appunto, uno degli ostacoli alla messa in scena di Ezio I, che dico, mi piace, è che richiede essere noioso. Ma che l'avesse sentito, oppure no, che l'avesse intuito per conto suo, certamente questo problema deve averlo avuto. Perché ha proposto un testo, un adattamento, che indubbiamente cerca di eliminare i momenti di stanca, o se non possono essere eliminati, di bacizzarli con tutta una serie di interventi, di soluzioni, di trovate, che io vi sono spettacolo martedì, che mi sembra di poter dire, o se di nuovo vi sono i spettatori che decidono, che parlano di dire, ma mi sembra di poter dire che funziona. La prima domanda, quindi, la faccio al regista e, come dire, secondo autore, di come vi piace, dopo il primo, che tanti, diciamo, tra quei 300 anni, quindi non può protestare, chiedendogli appunto se una delle linee che hanno guidato il suo lavoro è stato proprio quello di saltare a pie pari l'eventuale pesantezza, diciamo, l'esantezza del testo, soprattutto una volta che lo rendi in italiano. Buonasera, evidentemente, io conosco questo testo da molti anni, è da tanto tempo, insomma, che speravo, insomma, sognavo di poterlo mettere in scena, perché in realtà, per una questione puramente epidermica, per una questione forse anche empatica, io ho sempre avuto la sensazione che lì dentro ci potesse essere materiale per poter creare una grande possibilità di gioco, una grande possibilità di divertimento, unitamente, anche a tutte le possibilità che il testo offre per poter dare anche degli spunti di riflessione a proposito di tematiche importanti, per esempio, noi parleremo magari anche più tardi, qual è l'amore, anche una questione puramente ambientale, il potere, però ho sempre avuto la convinzione che questo testo, in realtà, potesse offrire grande possibilità di divertimento, ma effettivamente tutte le traduzioni che ho letto di questo testo, per quanto si sforzassero in tutti i modi possibili e immaginabili, di cercare di rendere tutti questi giochi di parole, ho letto diversi saggi, un saggio in particolare mi ha colpito di un autore italiano, che diceva che con molta probabilità il personaggio, per esempio, del buffone, oggi noi lo paragoneremmo quasi ad Alessandro Bergonzoni, che fa della parola, dei giochi di parola, delle totali invenzioni, che sono assolutamente intraducibili in qualunque altra lingua, avevo la lenta sensazione che dentro ci fosse materiale che potesse in qualche modo esplodere, ma questa commedia, come la maggior parte delle commedie di Shakespeare, in realtà presenta diversi problemi, uno, come diceva prima il professore, è un problema di linguaggio, due, è che ad occhi e croce hai l'impressione che ci siano quasi delle tale di incompletezza, è come se questo testo messo insieme da un editore, diversi anni dopo l'avrima andata in scena, è come se mancasse, per esempio, di alcune parti proprio di raccordo, faccio degli esempi, ne faccio uno soltanto in particolare, quando le due cugine, Rosalinda e Celia, si accordano per scappare di casa, per scappare alla preferenza di questo duca usurpatore, di questo duca Frederick, e decidono di andare nella foresta di Arden, lo fanno per andare alla ricerca del padre, del padre di Rosalinda, che si sa che si è andato a rifugiare lì dentro, ma poi stranamente nella commedia di Shakespeare, forse nella seconda scena in cui loro compaiono nella foresta, di fatto hanno già incontrato il padre, ne parlano, ma questa cosa pare non cambi nulla nella vita di questa ragazza, tant'è che incontrano il padre e continuano a vivere così, lei mascherata sempre da maschietto, continuano a vivere nella foresta come se quell'incontro non avesse prodotto poi niente di che. Ci sono degli incontri che questi personaggi fanno nella foresta, che sembrano essere quasi esclusivamente dei pretesti per poter suscitare una grande erarità, ma se te leggi il testo, in realtà la traduzione letterale di quel testo, capisci che lì doveva far ridere molto, ma fai veramente fatica a trovare una possibilità di divertimento esattamente nelle varie parole, nelle varie traduzioni che poi abbiamo letto tutti quanti, noi e studiato. La possibilità che c'era per poter dare l'infa vitale a questo testo, ma io credo un po' in realtà, professore, a un po' tutte le commedie di Shakespeare, e cercare di fare una cosa che in qualche modo, credo, abbia anche di presuntuoso da parte di un regista, in questo caso da parte mia, e cioè cercare di restituire, per quanto ci è possibile ovviamente, cercare di restituire allo spettatore di oggi un clima, un umore, una idea di teatro che rispetto agli studi che ci siamo fatti, alle cose che abbiamo letto, alle cose che abbiamo studiato, qualcosa che in qualche modo possa essere simile o assimilabile a quella che era la qualità di relazione fra quel testo e gli spettatori a cui era originariamente destinato, quindi agli spettatori del mondo elisabettiano. E ci sono cambiate molte cose in questi 400 e più anni, la prima cosa, e anche gli edifici stessi in cui andiamo a mettere in scena questi spettacoli, nel teatro elisabettiano c'erano queste arene, erano spazi all'aperto, fondamentalmente, c'era una pedana gettante sugli spettatori, gli attori erano circondati dagli spettatori, e c'era una qualità di relazione tra i personaggi che era assolutamente antinaturalistica. Più della metà dei personaggi di quest'opera erano interpretati dai clown, dai fool, c'era il fool per l'eccellenza, che era quello che interpretava il personaggio del buffone, e poi c'erano una serie di clown che con una tecnica che loro chiamavano dobbling, poi Shakespeare si mettono questo dobbling for function, interpretavano tutti i vari personaggi che avevano una funzione simile all'interno dell'opera. E in questo caso qui diventa anche chiaro che la dimensione metateatrale, il fatto che per gli stessi interpreti, per uno stesso attore, andasse a interpretare più personaggi, quella cosa stessa già poteva rappresentare una possibilità di puro divertimento, di pura eronia. Noi abbiamo cercato semplicemente, attraverso questo lavoro di adattamento del testo, di cercare di rendere vitale oggi, per lo spettatore di oggi, quelle parole che avranno sicuramente avuto un fondamento abbastanza importante più di 400 anni fa. E in che modo l'abbiamo fatto? Io ho preso tutto il testo originale dall'inizio alla fine, me lo sono tradotto, ma in realtà senza riuscire ad ottenere, ma nemmeno il più lontano, non riuscivo ad avvicinarmi nemmeno alla peggiore delle traduzioni esistenti, con la mia traduzione. Il lavoro vero è stato un lavoro di adattamento di quel testo. Ho cercato di fare, prima ancora di incontrare i miei compagni di lavoro, qualcosa che probabilmente era molto simile al lavoro che faceva Shakespeare prima ancora di incontrare gli attori e provare questa cosa in pacosciente, cioè adattare questa materia alle persone con cui poi avrei messo in scena questo spettacolo. E questa è una caratteristica molto importante, appunto come diceva prima il professore, queste sono parole, azioni, personaggi che devono essere rappresentati da qualcuno in pacoscenico o per qualcun altro che viene vi appositamente a guardarli. Io conoscevo i miei compagni di lavoro molto bene per averli incontrati altre volte, perché li conoscevo, per averli visti lavorare diverse volte. E ho costruito i personaggi esattamente lavorando sulle loro qualità più importanti, sapendo che avrei potuto spingere il pedale dell'acceleratore su delle caratteristiche che ognuno di loro aveva. Sono arrivato qui il primo giorno con un copione, con un adattamento abbastanza strutturato, ma la meraviglia è stata poter lavorare una settimana di seguito attorno ad un tavolino esattamente in questa stanza a cercare di riadattare ancora una seconda volta questa materia esattamente sulle persone che poi lo andavano a rappresentare e facendo delle modifiche non indifferenti, apportando dei cambiamenti non indifferenti al testo, ma mi è sembrato assolutamente con l'obiettivo di cercare di rimanere più fedeli possibili, non a Shakespeare, ma alla sua idea di teatro, al modo in cui loro facevano, lui e gli elisabettiani in sé facevano teatro, cercando di non perdere mai di vista che il referente più importante in una produzione teatrale per quanto riguarda il teatro che metto in scena io, non smette mai di essere lo spettatore a cui poi ci rivolgiamo, quindi facendo un passo indietro a qualunque idea di teatro di regia, mi sembra che la missione che poi mi sono dato, ma non in questo spettacolo soltanto, ma da quello che faccio da diverso tempo a questa parte, sia quello di cercare di dare importanza al cosa andiamo a mettere in scena, piuttosto che al come andiamo a mettere in scena, quindi non è tanto l'interpretazione che cosa secondo me questo testo dice, perché il testo, grazie al cielo, parla di suo, e parla, c'ha talmente tanta roba dentro, che la difficoltà è riuscire quasi ad andare a selezionare quali sono le cose più necessarie, più urgenti da dire allo spettatore di oggi, quindi andando ad attingere al materiale che c'è, quindi fondamentalmente è questo, non so se, come al solito sono logorloico, quindi... Ma io vorrei partire da una delle cose dette, adattare armi copiose, che è giusto per i copioni, agli attori con cui lavoro. Allora, la figura di Touchstone, il buffone, ha le caratteristiche reali del testo di Shakespeare, perché in compagnia, prima lui aveva come comico Kemp, Kemp era specialista di comicità gestuale, era un saltimbanco, divenne famoso perché fece da Londra, non so più, un posto da 50 km di distanza, tutto saltando su una gamba sola. Quando Kemp, bravo, mi bravo, altro che saltimbanco, quando invece di Kemp, in compagnia, entrò Omen, che era un tipo di attore diverso, molto più sofisticato, nella produzione teatrale di Shakespeare, la figura del Ful de Pau, Mood, e la sua comicità è soprattutto di tipo verbale, non più di tipo gestuale. E ne approfitto, visto che qui abbiamo Touchstone, un paragone come in genere viene tradotto, in italiano, il clown, il fool, ecco, vorrei chiedere a lui come si è dovuto, come dire, avvicinare, in quelle prime letture, voi qui studiavate come realizzare lo spettacolo, come si è dovuto avvicinare a questa parte. Buonasera innanzitutto, Teufelio Omen, ecco, ecco, ma, oddio, adesso, se è stato in gamma, sarebbe, perché è stato in un barco, nel camp, è stato da 50 km, che è una gamma, è già solo, è già il gioco di parole, ecco, è stato, è stato, esatto, e quindi, no, ma, ne approfitto subito, perché ci sono due battute, che mi metti subito, per chiedere cosa deve fare il fool, uno appunto, se uno salta per 50 km, su una gamma, non mi salta in gamba, ecco, e l'altro è, infatti, era quella cosa che diceva, prima, il professor Bertinetti, la prima lettura, dopo un po', ma, credo che ce lo siamo detti tutti, leggendo, dopo un po', perché il titolo, come vi piace, era proprio, com'è che vi piace? Cioè, perché non, forse leggi è una cosa che non, si capiva dove andava a finire, e dice, ma è che ci piace, questa cosa, quindi, volevamo proporre di cambiare anche, il titolo, ma, io, posso dire che, adesso, è chiaro che la tradizione, che poi, ci viene raccontata sui libri di storia, e, naturalmente, ha sempre quella luna di magia, per cui, come, come dissi a Leo, quando mi proposero il testo, e il personaggio del full, beh, io avevo, a parte le letture, così, dei, 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 dei testi critici, dei, dell'esperienza che ho fatto con la, con il lavoro su Shakespeare, non nel personaggio del comico, perché a me è sempre capitato di fare tragedie, per cui, non mi è mai capitato di fare commedia, e quindi, eh, non avevo questa esperienza, avevo un'immagine molto forte, di una, come dissi a Leo, mentre lui, tra l'altro, era in Svezia, a fare una, la legge alirica, io, molti anni fa, trent'anni fa, vidi, eh, una regia di Bergman, a Barcellora, di una relier, dove c'è, il full, anche nella tragedia, straordinario, un attore svedese, di cui, ovviamente, non ricordo il nome, che aveva più, eh, le caratteristiche di Kerr, cioè, come, come attore, no? Cioè, era un full verbale, e pur parlando in, in svedese, ovviamente, che io non comprendevo, come nessuno dei, dei barcellonesi, tra il resto, che non ho seguito, e come poteva comprendere, però, c'era questa, c'era una, c'era una stranissima gestualità, eh, minimalista, no? In un teatro, in un teatro enorme, per cui, non riuscivi a capire, come mai, questa intensità, rilassi del gesto, su una gestualità minimalista, perché gli attori, si muovevano, tutti in maniera, molto, eh, molto, determinata, molto, molto orientata, molto, si potrebbe dire, proprio, metodica, dal punto di vista, della gestualità, soprattutto delle mani, tra di loro, i personaggi, e anche questo, questo fool, peraltro fisicamente, completamente diverso da me, allampanato, alto, figura fortissima, ma che, faceva ridere, eh, in quel modo lì, cioè, senza, pur non capendo, quello che dicesse, e quindi, avendo solamente, dei riferimenti, del testo, perché letto il testo, uno più o meno, ci sta dietro, e, e poi, mi viene anche in mente, che, anni prima, no, sì, anni prima, o comunque, in quegli anni lì, mi era capitato di vedere, degli iraniani, un gruppo di attori persiani, mettendo in scena l'amneto, al festival di Parma, e, in persiano, eh, loro facevano, questa, la versione dell'amneto, quattro uomini, che, con semplici movimenti, delle vesta, dei vestiti addosso, che poi erano, dei pantellecasacchi, dei pantaloni, bianchi, diventavano uomo-donna, cambiano personaggio, e, io risi, come un pazzo, questo amneto, che era una versione, comica dell'amneto, non se ne parlo di stile, l'amneto, senza anche ricapendo niente, per cui, cioè, oddio, ci sarebbe da analizzare, come mai, però, adesso, diciamo che, però, mi sono reso conto, che in realtà era proprio questo rapporto, tra la gestualità, e non tanto, perché qui il problema non è tanto la parola, in quanto tale, perché a volte la parola, in quanto tale, non è nemmeno così importante, più di più volte ci siamo detti, no, non è tanto importante, che il pubblico segue esattamente, quello che state dicendo, soprattutto nelle parti comiche, perché, è il suono, è il suono, la intonazione, la tonalità, l'andatura, il ritmo, è quella cosa lì che devi trovare, solo che quando devi mettere insieme, il ritmo della parola, e il movimento del corpo, devi trovare quell'armonia, che è il lavoro più difficile, per cui, a tavolino, devo dire che ho sofferto, ho sofferto molto, perché, sì, cercavo, mentre leggevo, di capire che cosa poteva poi essere, il full messo in piedi, perché il problema sarebbe stato, capire che cosa, che cosa si poteva fare, dal punto di vista, della gestualità, della presenza fisica, della dimensione ritmica, del testo, una volta messo in piedi, il personaggio, perché sarebbe stato quello, secondo me, il lavoro, e poi perché comunque non è, il full non è un solista, non è che vada sempre, non è che uno dice, vabbè faccio così, tanto me la cavo, in tutte le scene, il full, è in relazione con gli altri personaggi, e quindi non può partire dal presupposto, che uno se la risolve di suo, deve andare, pur essendo un personaggio a parte, pur essendo il comico, pur essendo quello che appunto, ha quel ruolo lì, ma come del resto lo hanno altri personaggi, tutto questo ha sempre una ragione di esistere, se tutto questo sta in armonia con il resto, altrimenti diventi un personaggio a parte, che fa il numero, che fa, che crea il piccolo evento, ma che poi rischia di essere distaccato, in una commedia appunto, in cui certi snodi non sono nemmeno conclusi, e quindi aggiungeresti semplicemente traiettorie in più, senza aiutare a chiudere le traiettorie, e quindi devo dire che quando siamo andati finalmente in piedi, questo posto è bellissimo, sta bene a tavolino, però quando siamo andati alle Limone, abbiamo cominciato, anche perché poi una delle belle intuizioni di Leo Muscato, è stato il fatto che poi ognuno di noi, cominciasse a costruire il testo su se stesso, e quindi noi più ci ha lasciato molta libertà, dicono una cosa che vale per tutti noi, anche e soprattutto per le parti comiche, di intervenire, non pesantemente, ma comunque di intervenire, prendere l'adattamento come spunto, dal quale poi ognuno di noi ha costruito, soprattutto nella parte coniche, delle vere e proprie, come dire, nuove battute, insomma, ma proprio in quella dimensione lì, nel rapporto tra la presenza fisica, e questa dimensione della parola, ma più intesa come suono, come ritmo, non tanto come senso del discorso, non che il full non dica delle cose, ma qua, ecco, quando astrae e lancia le sue metafore, anche la dimensione poetica del full, allora lì te la giochi sul piano del testo, però è la terra per questo rapporto, quindi diciamo che è stato in quel momento lì, appena siamo andati in piedi, che credo di avere cominciato a capire che cosa sarebbe potuto fare il personaggio, questo è stato il lavoro iniziale. Sì, troppo serio? No, serio, no, non troppo, sì, dei personaggi di questa commedia, molti si risolvono nel registro comico, altri no, perché ovviamente l'usurpatore, il nostro registro è anche l'usurpato, ma è anche il fratello cattivo, cattivo prima, poi diventa buono, ma c'è una figura, un personaggio importante, che invece ha un registro tutto suo, ed è quello di Jacques, è giusto dire Jacques perché, se prendiamo il testo originale, c'è scritto che la foresta è delle, è scritto Ardenne, cioè in Francia, sono le Ardenne, è per quello che uno è Dubois e l'altro è Jacques, però è anche vero che poi divenne la foresta di Arden, che non è lontano da dove era nato Shakespeare, e che era anche il cognome di sua madre, e quindi è diventato, che si dice Ardenne, quindi Jacques, o Jackis, questo, per questo che ho fatto, è stato permesso, perché in alcune delle scene inglesi, è Jackis, non è Jacques, il personaggio di Jacques, ha un rilievo notevolissimo, lui è al di fuori dei giochi amorosi, e entro certi limiti, anche del gioco di potere, che è fatto così, che appunto, il sovrano, il sovrano, sia nella foresta, in una messa in scena, tradizionale nel senso peggiore del termine, quindi c'è il rischio che Jacques annunci, aggiunga noiosità a noiosità. In una messa in scena come questa, c'è il rischio che sia, no, c'è il rischio che sia fuori registro, perché la distanza diventa troppo grande. Da spettatore, a me sembra che questo non sia avvenuto, e cioè, che il personaggio di Jacques, così come è stato interpretato in scena, in questa produzione, si è stato in grado di essere armonizzato, con il resto della recita. e la domanda è, come ci è riuscito, a trovare questa... Buonasera, sono Jacques, Michele Di Mauro, che fa Jacques? intanto non si sa mai chi ha visto cosa, chi non ha visto, se le persone presenti hanno già visto lo spettacolo o no, è questo però. oggi... No, ma il più delle volte... Ce lo risolviamo alzando una mano... scusa Michele... No, no, noi sappiamo che facciamo gli incontri di retroscena all'inizio della programmazione, anche per incoraggiare il pubblico a vedere lo spettacolo, quindi è quasi scontato che il pubblico abbiano visto. Lo facciamo sempre all'inizio. Posso sapere chi ha visto lo spettacolo? Ah, noi invece te l'avessi. Insomma, va bene. Te promettemi. No, no, perché parlare di una cosa rispetto al fatto che uno non ha visto è diverso da aver visto, ma a me sembra sempre di essere in uno spettacolo, ma arrivare da un altro spettacolo, per esempio. Cioè Jacques potrebbe essere uno che sta facendo uno spettacolo in un altro teatro vicino e ogni tanto entra in quest'altro teatro e dice delle cose e poi dopo, quando non è scena, torna nel teatro vicino e fa degli altri pezzi. Questa potrebbe essere una buona scappatoia, ma potrebbe anche essere una proposta. Cioè io faccio Jacques, però se, quando non sono in scena di qua, posso fare delle altre cose. non è un teatro adiacente. Non è credo successo, però attraverso la proposta. No, delitto e castiglio. Ma in senso positivo, non in senso negativo. Nel senso che essendo fuori da tutti i giochi, quelli principali, da quelle che sono le linee più scottanti della trama, di come mi piace, in realtà poi Jacques ogni tanto arriva, soprattutto nella prima parte, e dice delle cose che hanno qualche cosa più a che vedere con la filosofia, se vogliamo, comunque con una visione del mondo, di come si muovono le persone, le cose nel mondo, che può stare in questo spettacolo qui, ma anche nell'altro che sta facendo, nel teatro vicino, allo stesso modo. La cosa interessante è che, per esempio, nel nostro gioco di messi in scena, in tutta la seconda parte, lui ha una specie di libertà, di presenza, un po' come se, non è esattamente un altro spettacolo quello che lui fa, ma non è proprio chiaro chi è. Cioè lui è un cortigiano, ma chissà se è arrivato con loro. Sembrerebbe di più uno che era già lì. Non so, a me sembra che quando finalmente siamo nella foresta, mi sembra che la gente arrivi e che io già ci sono da tempo. Non so, ho questa sensazione qui. E quando loro ci sono, io ci sono anche, ogni tanto li posso guardare, loro non mi vedono. È come se fosse una specie di... Spirito. Comunque, in un sogno di notte e mezza estate sarebbe più facile inserirlo, no? In una dimensione più fantastica. Ecco, mi sembra il personaggio più fantastico. In questa specie di verità che raccontano malamente gli altri, o cercano di mettere insieme gli altri, mi sembra che Jacques sia leggermente più fantasy. Infatti è anche un po' disegnato così adesso, come un fumetto di Tim Burton, piuttosto che un personaggio in un film gotico. Quindi non è stato difficile stare dentro, perché in realtà, per quanto mi riguarda, sta quasi sempre fuori. E quando sta dentro ci sta in virtù di questo attaccamento alla figura del buffone, al quale lui in fondo ambirebbe, ma che invece non sarà possibile, noi lo sappiamo. Ma non mi sembra una trama, ecco. Non ha un obiettivo vero, no? Nella scrittura di Shakespeare. Noi gliel'abbiamo un po' dato, gliel'abbiamo un po' regalato, no? Provando a mettere un pochettino più in evidenza il rapporto con le possibilità buffonesche di poter soffiare sul mondo e dire tutto ciò che uno pensa, perché poi questo invece era il ruolo. Ma non mi sembra che però possa essere quello, l'animo di Jacques, cioè tendere a essere un buffone. A un certo punto si dice, tra le ringhe, che però ha il tuo passato, libertino, eccetera, cioè gli si vuol cucire addosso qualche cosa, ma è un attimo, e io me lo prendo e me lo tengo per me e mi interessa. Ma chissà però, per esempio, al pubblico, di tutto quello, che cosa gli rimane, o di che cosa avrebbe voglia. Ecco, una cosa che mi piacerebbe sapere invece è, rispetto a un personaggio così, di che cosa avrebbe voglia il pubblico? Cioè rispetto a che cosa manca, per esempio, di Jacques all'interno di tutta la piazza? Perché a me, per esempio, manca qualcosa. Due, posso? Come no, c'è? Due cose. Una, se quindi l'idea che lui, magari, bocchissà, forse era già lì, questa è la spiegazione del perché alla fine resta, quando tutti vanno dire. Questa è la spiegazione. Cioè, io questa parte, che si veda così, con la sensazione che lui, magari, forse fosse già lì prima, o comunque per conto suo. E questo, rispetto alla conclusione finale, è perfetto, perché infatti lui resta. Però adduce un'altra ragione. Cioè, resta perché gli altri se ne vanno e tornano a fare quella vita di corte che a lui non interessa, di fondo, più. Ecco, ma l'altra invece è la più del regista. Sì. E cioè, questa idea è un'idea che avete concordato, che è stata subita dall'attore o subita dal regista? No, no, per carità, abbiamo lavorato insieme. No, c'è una faccenda. Nel testo, come diceva prima, mi chiede il Mauro, nel testo, ad un certo punto, ci sono delle falle, no? È come se venissero a mancare degli appuntamenti proprio drammaturgici che possano in qualche modo raccontare fino in fondo qual è la funzione di quel personaggio. Ad un certo punto, relativamente all'inizio, il personaggio di Jacques racconta di questo incontro meraviglioso con questo buffone, ha incontrato un buffone che gli ha fatto scoprire delle cose meravigliose che hanno a che fare con il tempo, no? Sulla possibilità di guadagnare tempo, sulla possibilità di usare al meglio il tempo che ci è dato ed è un incontro favoloso, un incontro meraviglioso, no? E in realtà è un racconto perché quell'incontro il pubblico non lo vede. Ma io, per esempio, non sono sicuro che ai tempi di Shakespeare quell'incontro in qualche modo non fosse raccontato in maniera diversa che con il racconto. Può essere pure che c'era una scena che noi adesso non possediamo. ciò che è certo è che questo incontro e questo suo desiderio, questa sua richiesta, questa sua unica richiesta al Duca di farlo diventare un buffone, noi ce l'abbiamo assunta fino in fondo e abbiamo fatto di questo grande desiderio del buffone il suo obiettivo da raggiungere all'interno di tutto l'arcoscenico. Infatti, tutte le volte che appare il buffone, questo personaggio di Jacques che in realtà, come dicevamo prima, cerchiamo di raccontarlo come se fosse quasi uno spirito di questa foresta di Arden perché questa foresta di Arden che è il luogo in cui si avviene tutta la seconda parte, in realtà è una foresta che noi realizziamo con pochi sacchi di foglie per terra e un solo albero e questo albero è mostro in scena solo ed esclusivamente da Jacques e l'unico che entra in relazione con questo albero e lui spostando semplicemente nello spazio crea, racconta spazi diversi quindi tutte le volte che appare non solo il buffone ma anche in relazione con il suo alter ego che è un personaggio che nella commedia si chiama Odrie che è interpretato lì da Laura Posone tutte le volte che questi due clown questi due comici appaiono lui è sempre presente in scena e in qualche modo è come se cercasse di tirare l'infa comica l'infa vitale da questi due tant'è che ad un certo punto esattamente sul finale finalmente presenta questo buffone al dubbio e dice guarda questo sono i bufisti queste sono le persone che hanno un senso a questo mondo e anche Peter per quale ragione forse perché sono le persone che mettono a buon umore forse perché c'è veramente bisogno di qualcosa di una risata non lo sappiamo non ci è dato saperlo perché nel testo di Shakespeare non c'è però è il modo che abbiamo trovato per poter dare una funzione drammaturgica più importante a questo personaggio che non ce lo dobbiamo dimenticare per chi non conosce il testo per chi ancora dovrà vedere lo spettacolo in realtà pronuncia il discorso più bello di quest'opera se nell'Amleto c'è l'essere o non essere e qualche altro monologo importante se nel Romeo e Giulietta c'è la scena al balcone tra Romeo e Giulietta in Come vi piace c'è il famoso monologo che avete sentito recitare da Gasman il famoso monologo questo è il mio teatro tutto il mondo palcoscenico ed è veramente un grande classico e per chi conosce il testo è un appuntamento importante non è un caso che Shakespeare abbia dato questo monologo importante al personaggio di Jacques ecco ci ha solo una cosa frivola e l'inizio quella frase lì tutto il mondo è un palcoscenico nel mondo di lingua inglese così famosa che addirittura è nel parlato di di Elvis Presley addirittura lì viene messo lì dentro a un certo punto Elvis smetteva di cantare parlava non era una pace ovviamente a recitare bravissimo a cantare e dice quello tutto il mondo palcoscenico e ciascuno deve recitare l'oparco di cilienafia eccetera eccetera scusami no ci hai parlato rettolosamente di odri se ci presenti anche gli altri attori che sono tutti qua presenti che ce li fai identificare allora qui in prima fila abbiamo Silvia Giulia Mendola che interpreta il personaggio di Ceglia c'è la cugina che è la cugina di Rosalinda Rosalinda è la protagonista di questo di questo testo ed è interpretata da Beatrice Vecchione Beatrice è un personaggio molto curioso questo in diversi saggi troviamo scritto che in realtà è veramente l'unico forse l'unico personaggio femminile che all'interno di un'opera di Shakespeare si parla di tragedie di commedie o di drammi che possa definirsi veramente protagonista perché questa questa ragazza che viene cacciata a via da questo duca di fatto è costretta a scappare a ricoggiarsi con la cugina Celia in questa foresta di Arden che è un luogo meraviglioso un luogo fatto ad immagine e somiglianza dell'idea che ognuno si fa probabilmente di benessere di felicità scappa lì travestita da uomo quindi scattano tutta una serie di fraintendimenti di tutto un gioco di equivoci molto molto divertente che noi proviamo a cavalcare in una maniera importante poi c'è qui saluto sempre in prima fila c'è Giulio Baraldi Giulio Baraldi hai fatto un saluto e se volete vedere lo spettacolo farete fatica a riconoscerlo perché Giulio Baraldi interpreta sette personaggi all'interno di questo spettacolo indossa sette parrucche una diversa dall'altra con filmi molto diversi e a proposito di quello che dicevo prima degli attori che all'interno della compagnia di Shakespeare avevano una funzione molto precisa lui interpreta tanti piccoli personaggi che hanno tutti esclusivamente una funzione prettamente comica ogni volta che arriva Giulio Baraldi in questo caso ogni volta che arriva quell'attore lì si ferma l'azione e si ride perché non si può fare a meno di ridere ma al di là della sua bravura questo qui non conta perché non ci facciamo i complimenti fra di noi ma è proprio per come sono scritte le scene fondamentalmente poi qui sempre per prima fila abbiamo Marco Gobetti Marco Gobetti ha fondato questa istituzione meravigliosa che è il teatro stabile di strada che mi sembra uno simolo favoloso è un autore regista autore scrive delle cose meravigliose che qui mi ha fatto il regalo di venire a recitare in questo spettacolo e interpreta due duca diversi uno il primo duca tiranno è quello lì che ha spodestato il duca considerato il duca buono che l'ha cacciato via ha preso il suo posto e poi immediatamente dopo quasi fosse un gemello anche lì con un travestimento abbastanza evidente ma il pubblico riconosce lo stesso autore interpreta anche il duca messo al bando il duca che è stato cacciato via che si è andato a rifugiare in questa foresta di Arden e cerca in tutti i modi di convincersi e di convincere le persone che lo affiancano di essere in un buco meraviglioso dove probabilmente si vive ancora meglio di quanto non si vive dalla corte che hanno abbandonato che sono stati costretti ad abbandonare sempre qui in prima fila c'è Matteo Bagliardi che è un altro cattivore interpreta il personaggio il fratello cattivo dell'altro protagonista di questa storia di Orlando un fratello cattivo che però come gli altri cattivi quando arrivano in questa foresta ha comunque si converte si converte diventa immediatamente chiunque arrivi in questa foresta comunque riesce a trovare una qualità di relazione a parte tutto Jacques probabilmente ma riesce a trovare una qualità di relazione con il mondo che lo fa sentire decisamente Jacques è già convertito perché quando lui è nella foresta non è più libertino è stato un disastro è stato un disastro queste prove perché a un certo punto ci fermavamo con le risate che spartevano battute così è stato un disastro un disastro e poi in questo spettacolo sto andando in ordine in questo spettacolo la musica ha una funzione estremamente importante anche qui non è un'idea di regia è cercare il tentativo di cercare di rimanere quanto più possibili fedeli all'opera stessa di Shakespeare che probabilmente è una delle opere che contiene più canzoni che contiene più musica proprio per ciò che è indicato nel testo e noi abbiamo in scena Dario Buccino che è musicista e compositore lui sta facendo per i fatti suoi una ricerca di composizione con lamiere d'acciaio con strumenti a fiato però è un chitarrista da sempre noi abbiamo già fatto un lavoro insieme un chitarrista eccellente e abbiamo insieme composto in questo mese insieme le musiche le ha fatte lui quando dico insieme durante le prove a tavolino abbiamo composto delle musiche e lui in realtà sono anche musiche molto semplici sono quattro temi sono quattro temi in realtà c'è il tema di Orlando il tema della foresta il tema dell'amore e il tema di Jacques sono questi quattro temi che vengono ripetuti più volte ma sempre in maniera diversa ma la cosa meravigliosa è che lui con la sua chitarra e poi con un altro chitarrino un ukulele a sei corde più piccolo con un suono molto diverso lui cuce addosso delle note sulle singole precise parole che pronunciano gli autori quindi in realtà sono dei momenti in cui veramente la parola è andata di pari passo con la musica e che l'una sia adeguata all'altra o viceversa poi chi ci abbiamo? qui mi sto da Beatrice Vecchione mettiti in piedi che non ti abbiamo visto te abbiamo salutato Beatrice Vecchione e poi allora ecco lì Laura Pozzone fatti vedere Laura Pozzone è un'altra cintura nera di teatro comico cioè nel senso lei è attrice drammatica tra le cose non stiamo parlando di quelle in questo momento in questo spettacolo lei è un altro che come il clown di Giulio Paraldi è un altro di quei personaggi che insieme a Mariangela Granelli che è qui che non la vedo qui è Mariangela Granelli praticamente abbiamo deciso di istituire un duo comico Laura Pozzone e Mariangela Granelli perché per una questione di economia non parlo di soldi ma di economia drammaturgica di economia di spettacolo alla fine tutti i personaggi comici sono interpretati da questi tre attori Giulio Paraldi Mariangela Granelli e Laura Pozzone ma loro due nella fattispecie sono diventate una coppia perché? perché c'erano sempre una serie di personaggi che entravano in coppia i nobili i gentiluomini poi che cos'altro c'era? i pastori no? per esempio Laura Pozzone interpreta all'inizio una nobile una nobile a corte essendo due donne ricordatevi che ai tempi di Shakespeare gli interpreti erano tutti uomini essendo due nobilesse le abbiamo chiamate noi in questa corte sono due nobilesse molto vivaci molto provocanti molto buffe tutti giocati con una estrema illarità quando poi arrivano nella foresta la stessa coppia di comici che interpreta queste nobili molto sopra le righe con dei barrucconi incredibili con delle gonne un po' z questa stessa coppia di comici diventa i nobili nella foresta che sono andati a seguire il duca che è stato messo al bando e che cercano di farsi piacere a tutti i costi di questa foresta successivamente interpretano entrambi delle pastorelle in questa foresta soltanto che a quel punto mi sono detto ma visto che hanno lavorato sempre in coppia continueranno a lavorare in coppia ma che cosa ci possiamo inventare qui perché continuano a lavorare in coppia anche quando interpretano la pastorella perché la pastorella era prima una e poi ne arriva un'altra si parla di greggie si parla di pecore ecco e che è stato detto qui no abbiamo deciso ad un certo punto che le pecore potevano diventare delle protagoniste di questo spettacolo perché dovevamo dare un valore a questo mondo pastorale di cui tanto si parla no e ad un certo punto ognuna è diventata la pecora dell'altra quindi quando arriva una pastorella è accompagnata sempre da una pecora al guinzaglio e entrambi hanno lavorato su due diversi tipi di caratteri una è entusiasta è vivacissima è iper eccitata a qualunque cosa è molto protettiva nei confronti della sua padroncina perché per esempio c'è uno che il buffone che si vuole approfittare di questa donna molto procace molto bella ma questa qui lo tiene a bada perché prima c'è il matrimonio e invece la seconda è veramente una che mette distanza una che sembra uscita veramente da un cartone animato di un penno con una sigaretta in bocca ed è una molto schiva sono due caratteri due pecore molto diverse che accompagno per fortuna vi vedo sorridere sapete perché? perché questa è una commedia Shakespeare ha scritto tragedie drammi storici drammi e commedie se una commedia non far ridere ci abbiamo qualche problema da qualche parte c'è qualcosa che non funziona e l'obiettivo per cercare di rimanere quanto più possibili fedeli a Shakespeare era proprio quello di dargli un valore a questa idea di comicità certo prima il professore ce l'ha già diceva dopo insegnare se dovessimo fare affidamento soltanto sulle parole saremmo abbastanza fregati ma di fatto quello che qui succede non sono quello che qui fa veramente ridere o sorridere a volte anche in maniera importante non sono tanto le parole che questi pronunciano quanto le dinamiche di relazione di totali non sensi in alcuni casi che si sviluppano all'interno di questa foresta di Ate fra gli attori da presentare mi manca lì vedo Vittorio Camarota che si può andare in piedi Vittorio Camarota che all'inizio interpreta perché ci siamo dimenticati di dire una cosa importante questa stiamo parlando di commedia che deve far ridere di fatto è così ma inizia come una tragedia cioè il primo atto di questo testo è veramente molto duro perché si parla di fratelli che si scannano fra di loro si parla di un vecchio duca che è messo al bando che ha cacciato via malamente il suo fratello più anziano quindi lo ha relegato nella foresta cioè parte come una tragedia non parte subito di felicità ci si arriva lentamente e in questa prima parte però uno di questi protagonisti uno di questi personaggi abbastanza importanti è questo lottatore che viene chiamato no che si prese cioè è il lottatore personale del duca perché i nuovi divertimenti in questa nuova corte consistono nel far spezzare le ossa alla gente quindi sembra di essere arrivato in un'arena romana dove i gladiatori si combattono contro le bestie contro gli animali e questo questo nostro lottatore appunto Vittorio Camarota in realtà cerchiamo di raccontarlo conservando una serietà perché la deve avere però non dimenticandoci mai del fatto che siamo all'interno di una commedia quindi una possibilità ironica la dobbiamo conservare in qualche modo e poi invece interpreta anche un altro nella seconda parte dello spettacolo interpreta un pastorello un pastorello perdutamente innamorato di una ragazza che nemmeno lo vede anzi quando lo vede non perde occasione per lanciargli tutti gli improperi possibili e poi ci manca e poi ci manca ed ecco non la Orlando tutti nascosti i timidoni gli attori sono timidi Daniele Marmi che interpreta il personaggio di Orlando che è questo giovane fratello appunto cacciato trattato male trattato malissimo dal fratello cattivone che interpreta Matteo Baiardi molto intelligente amato da tutti sempre nel cuore delle cose diciamo nel testo ma in realtà è uno che ha vissuto nella povertà anche nell'umiliazione ad un certo punto anche lui è costretto ad andare via anche lui approda in questa foresta di Arden e quando approda in questa foresta di Arden come tutti quanti gli altri personaggi incontra della gente in questa foresta di Arden si intrattiene in conversazioni anche abbastanza piacevoli senza perdere di vista l'obiettivo principale che è quello di estilpare dal proprio cuore la donna di cui si è perdutamente innamorata che è questa Rosalinda non sapendo che in realtà in questa foresta c'è anche Rosalinda e Rosalinda ad un certo punto lo incontra ma essendo travestita da uomo e vergognandosi mortalmente di quella sua miss nasconde il fatto di essere Rosalinda lui non la riconosce e inizia fra i due un gioco tragicissimo da morire dalle risate ma è tragicissimo perché Rosalinda gli impone una cosa se vuoi dimenticare il tuo amore devi venire qui da me tutti i giorni e io ti insegnerò a come poter estirpare dal tuo cuore quest'amore per una donna che tanto non potrai mai avere e questo gioco per fortuna essendo una commedia finisce in un dietro fine scusate sono logoroico lo so ma ripresentate tutta la compagnia come che si andava a proposito degli attori che fanno più parte tenete conto che anche verso la fine della carriera di Shakespeare quando diventano Kingsman quindi il re il protettore della compagnia al massimo erano 12 prima erano 7 ora pensate i drammi storici quante parti ci sono naturalmente le entrate e le uscite erano studiate in modo tale che un attore potesse fare più parti e l'altra cosa pratica appena ricordata è che naturalmente era vietato alle donne a recitare e quindi le parti femminili erano recitate da un giovane attore possibilmente senza barba che era uno stipendiano e gli attori della compagnia in genere erano di due tipi c'erano gli azionisti quindi partecipavano degli utili eventualmente dai perdici c'erano quelli che avevano uno stipendio se le cose andavano bene se no lo stipendio non glielo davano e il giovane attore ovviamente era tra gli stipendiati non faceva parte del bene il giovane attore quindi compariva in scena in molte delle commedie di Shakespeare compare l'eccezione Giulietta compare in scena in abiti femminili ma poi le circostanze della vicenda fanno sì che debba travestirsi da uomo e quindi recita da uomo e naturalmente quando poi nel corso della commedia questa come altre tutti gli altri personaggi lo riconoscono come uomo si capisce perché lo era dico rispetto al patrocene per l'isabetiano lo era a noi potrebbe sembrare magari ma come fai a non accorgerti che e no ma nell'originale il problema non c'era era un attore che faceva una parte femminile ma essendo vestito da uomo è chiaro che sembrava un uomo lo era ora qui però come giustamente diciamo l'emuscatto prima abbiamo un personaggio femminile quindi un attore giovane che recita una parte femminile una parte femminile che è l'unica ci sono delle grandi parti femminili in molte delle tragedie e nelle conveglie di Shakespeare ma questo è l'unico caso in cui il personaggio femminile è il la protagonista e questo ha fatto sì anche con tutte le grandi attrici da partire da quando lo sappiamo quando abbiamo la documentazione affidabile da fine settecento in post tutte le grandi attrici prende una prende l'interno tutte le grandi attrici inglese hanno sempre fatto prima o poi la parte di Rosane con il fatto che sta in scena vestita da uomo per la maggior parte del tempo anche quando arrivavano già intorno ai 40 45 continuavano a fare Rosalinda tanto essendo vestite da uomo non si notava tanto che non erano delle facciulle insomma ora in se io ho capito bene in questa produzione la scommessa è duplice affidare a un'attrice giovane il ruolo della protagonista e scegliere come attrice giovane un'attrice giovanissima che quindi ha dovuto fare una beh tutti voi avete dovuto fare una scommessa una scommessa rischiosissima però ogni tanto come quello che ha puntato una sterlina sull'est le scommesse funzionano questa è una scommessa che ha funzionato se volesse un'attrice che fa Rosalinda se volesse venire qui perché vorrei chiederle Beatrice complimenti vorrei chiedere delle molte battute e anche diciamo un po' che sono come dei bellissimi minori che ha il personaggio se ci sono alcune di queste battute che lei ha sentito particolarmente come sono sì lei inglese io tra l'altro sì tante tante adesso che mi salta in mente la frase che mi piace tantissimo una scena quando io ascolto il pastorello e il febbi parlare e il fatto di accorgersi che che l'amore accade ovunque all'improvviso e che sia un luogo come la foresta a nutrire questa questa forza per cui la foresta forse è un luogo dell'anima più che un luogo fisico e va e al pastorello io dico non è sul specchio ma sei tu ad adularla ed è in te che lei vede se stessa più bella di qualsiasi sua fattezza possa mostrarla e questa frase mi risuona molto è è più sua adesso mi viene in mente quella però poi in realtà tanto tutto ma perché ce n'è uno in particolare forse la più citata nelle di questa parte perché tenete conto che c'è oltretutto la come dire satira forse è troppo ma certo un atteggiamento ironico da parte di Shakespeare nei confronti del dramma pastorale della poesia pastorale delle varie arcadie che tanto piacevano in quel momento quindi tutti questi amori pastorali sono rappresentati essendo un po' presi in giro a un certo punto a un certo punto proprio dove invece a mio avviso è più esplicita l'intento satirico di Shakespeare è quando Rosalinda dice ma come morire d'amore ma d'amore non è morto mai nessuno capite rispetto a tutta la poesia pastorale lì è proprio la negazione del principio fondante che è bene d'amore perdute come di sentire nel morire per uno che aveva fatto morire Roma e Giulietta così non ha morto mai nessuno ma ha scritto la Giulietta è stato ironico ma lì è stato pure fatto una sfiga sì ma è vero sono sbagliato ma era più che montese andiamo a chiedere se qualcuno ha delle domande ci volete chiedere qualcosa avete delle domande perché si chiama come vi piace dunque intanto questo perché il titolo è come vi piace intanto c'è una discussione su questo c'è una discussione tant'è vero che a un certo punto nel settecento il titolo l'hanno cambiato perché diciamo che cavolo c'entra questo titolo qua e lo chiamavano amore nella foresta il titolo di la Giulietta è diventato l'area della foresta perché diciamo che sta a significare in realtà è perché questa storia è come vi piace questa è la possibile interpretazione ma portandocela più vicino a noi non abbiamo forse delle sollecitazioni anche rispetto a quello che diceva Beatrice Beatrice dice che cos'è la foresta perché può essere interessante ragionarci come un luogo che non è un luogo lei diceva in fondo è un po' un luogo come può essere un luogo l'anima sì una dimensione quindi se diciamo che la foresta è un luogo di possibilità e come vi piace è associabile alle possibilità dell'amore tenendolo un po' più vicino a noi è purché vi piaccia no? cioè come nell'epilogo non è importante non è importante come vi piace ma che vi piaccia infatti anche nell'epilogo io lo colgo proprio come un gesto di gratitudine verso il pubblico cioè molto spesso c'è un rapporto conflittuale tra pubblico cioè l'attore ti insegna il pubblico insegna e pure ti giudica non c'è invece uno scambio paritario e invece l'idea che sì ma mi immagino anche più Sant'Agostino cioè ama e fai c'è più cuore quindi come ti piace sentiamo uomo donna donna uomo uomo topo cioè non c'è un'amore in fondo no? se ti piace è quello che mette in modo tutto questo è tra l'altro una cosa di cui nessuno può dire nulla che è perché nessuno la sa definire o l'ha inventato perché è l'amore allora se parliamo d'amore proprio come ti piace no? ma c'è un'altra in realtà questa commedia è la seconda che Shakespeare scrive con lo stesso titolo perché la dodicesima notte è uguale è o quel che volete o quel che volete la dodicesima notte o quel che volete come pare a voi sì come pare a voi la dodicesima notte in realtà per loro è la dodicesima notte dopo il Natale quindi parliamo dell'epifede del giorno della Befana fondamentalmente che era una specie di carnevale giusto professore era una specie di carnevale per loro quindi appunto la dodicesima notte è l'epifenia carnevale o come vi pare o come vi piace oppure o quello che volete in realtà credo che proprio nella funzione precisa del drammaturgo in questo caso che dice Shakespeare credo che non sono sicuro che fino in fondo avesse un'importanza così decisiva anche la scelta stesso del titolo perché c'è una battuta che mi fa impazzire nel film di Tom Stoppard Shakespeare in Love no il cui protagonista è proprio questo giovane Shakespeare che deve scrivere questo testo e viene chiamato lo scrivi parole non è l'autore non è il poeta è lo scrivi parole e poi sono andato a fare una ricerca e questa espressione lo scrivi parole era un'espressione che utilizzavo perché i testi che ci sono arrivati di Shakespeare la stragrande maggioranza non possiamo dire la totalità ma la stragrande maggioranza erano storie già esistenti erano storie ricavate o da poemetti che avevano in circolazione o da livelli o da altri altri testi teatrali lui le riscriveva meglio le riscriveva bene con una grande capacità con una grande lovizia per quegli attori lì quindi alla fine era lo scrivi parole per quella compagnia lì la verità è che il pensiero che mi è venuto quando mi dicevi tu che cosa pensi la verità è che io non escludo il fatto che lui abbia scritto questa robocchia che non so come volete voi sia rimasto lì come vi piace il giorno in potese che è quella che mi ha guidato all'inizio della scrittura delle musiche perché quando ho letto il testo la prima volta ho già detto subito di tramite la sua revisione quello che mi ha colpito era la forza generosa dell'ambiguità c'era un uomo che si attravesse una donna che si attravesse da un uomo che grazie a questo risolve le cose c'era un uomo che si attravesse la donna che si attravesse da un uomo e questo amore che circola come in senso freudiano questo transfert io ho così tanto amore dentro per Rosalinda che per me è anche un uomo che me la ricorda perché l'amore come la violenza si contagia io sono arrabbiato con un tizio ma mi spogo sul cane però è la forza generosa quando si tratta di amore è la forza generosa e questa ambiguità tutto sommato alla fine alla fine si risolve sempre cioè un duca buono vabbè non mi dico però si risolvono molte cose Rosalinda si rivela essere effettivamente una donna l'unico personaggio che conserva questa ambiguità fertile tutto il tempo è Jacques che fin dall'inizio e infatti io lo percepisco di un poeta Jacques e la poesia è la forza generosa della ambiguità per questo nello scrivere le musiche la prima cosa che ho scritto è stata la canzone di Jacques ho cercato di scrivere una canzone che fosse luminosa ma umbratile che fosse malinconica ma gioiosa che fosse sofferta ma ho cercato di ottenere questa ambiguità da cui poi ho estratto tutto il materiale per il resto mi sembra che come vi piace sia proprio un riconoscimento grato all'ambiguità che è analogo al riconoscimento grato al pubblico che fa Rosalinda cioè Rosalinda quando dice le pio dice ma posso dirvi di essere una buona commedia non lo so questa cosa si decide insieme e questa è la componente generosa dell'ambiguità l'ambiguità non intendo l'ambiguità torbida io l'ambiguità non intendo il senso a metodo l'ambivalenza può diventare torbida ma può diventare liberatore parlando di musica l'ultima domanda telegrafica il coro delle pecore è un'invenzione di Shakespeare sì sì di Shakespeare è un imprestito rossignano oppure dici qualcosa di questo coro non lo so è che mi sembrava che questo spettacolo dovesse assolutamente diventare il luogo dentro cui era possibile far accadere qualunque cosa cioè questo era l'unico basso continuo poi ci siamo tenuti dentro per tutto il tempo e prima di cominciare queste prove mi era capitato di sentire così casualmente appunto il duetto il duetto per gatti di Rossini miau 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 e ho chiamato subito Dario ho detto Dario senti ma se Rossini ha fatto un duetto per gatti noi la possiamo fare una sinfonia per pecora e quindi è venuta fuori la scena che avevamo le pecorelle che compaiono all'inizio prima la pecora di Otre poi la pecora di Fede a un certo punto all'inizio del secondo atto apriamo proprio con tutto il gregge che arriva e canta la fine delle recite la potremmo mettere su YouTube assolutamente perché credo che saremmo orgogliosissimi è un grande momento di teatro bene grazie dunque a Leo Buscato al professor Paolo Bertinetti a tutti gli attori della compagnia e a tutti voi e dobbiamo dirci a rivedermi alla prossima stagione perché come sappiamo questo è il nostro ultimo appuntamento di questa stagione chi non ha ancora visto lo spettacolo non manchi di vederlo verrà annunciata la prossima settimana la prossima stagione con i professori dell'università siamo già al lavoro per organizzare il prossimo la prossima edizione di retroscena un altro programma che faremo ancora più ricco e interessante e quindi grazie della vostra presenza arrivederci dalla prossima stagione grazie a tutti grazie a tutti